Pallito, l'ho detto che duravano poco, qui piccolini, dai eccolo qua, un altro trasportino, siamo pronti, Carletto già se lo sono venuti a prendere, vediamo un pochettino che cosa sta facendo invece il nostro Pippo, senti Totino dentro, il nostro Pippo che invece si chiamerà Millo, è rimasto da solo, senza fratellero, poverino, è stato sfratellato, nel senso che il fratello se lo sono venuti a prendere qualche istante fa, Millo, è arrivato anche il tuo momento, ti stiamo accompagnando alla stazione di Fossanova perché la nuova Mami lo sta venendo a prendere con il fratello, il treno e lui farà un piccolo viaggetto per andare nella sua nuova casa da mamma Ilaria, un'altra missione della nostra associazione Italia a quattro zampe, Millo, siamo pronti, eccolo là, vedi il trasportino, per portarlo fino a Roma, se no scusate, fino a Priverno Fossanova, l'abitudine di via Roma, stavolta è un viaggetto piccolo piccolo piccolo, ringraziamo anche Silvia, ci sta dando un passaggio con la macchina, visto che la Mami sta al lavoro con la macchina e noi eravamo a piedi, dai dobbiamo andare, che dormi ciccio, namo? Siamo pronti, Italia a quattro zampe, anche in questo sabato la voce di tanti pelosetti del mondo.